Forti bruciori agli occhi e alle vie respiratorie, oltre a vertigini e svelimenti. Un'intera palazzina in via Campione a Bari è stata fatta sgomberare dai vigili del fuoco a causa della dispersione all'interno dello stabile di una sostanza di natura imprecisata. La fuoriuscita è avvenuta nel primo pomeriggio e in particolare è stata avvertita da chi abitava ai primi piani o da chi sostava nell'androne del palazzo. I sintomi di malessere tra i condomini si sono manifestati intorno alle 15.30. 8 persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari, tra cui due bambini. Secondo una prima ipotesi si sarebbe scatenata una combinazione chimica all'interno del portone, ma la causa resta ignota. Forse una miscela di detersivi utilizzati per pulire lo stabile, ma non si esclude neanche lo scherzo di cattivo gusto di qualcuno. Nel pomeriggio però l'esalazione è scomparsa, rendendo difficile il lavoro dei tecnici dell'ARPA e della sezione nucleare biologico-chimica e radiologica dei vigili del fuoco che stavano esaminando l'area nell'androne per individuare la provenienza e la natura della misteriosa sostanza. Sul posto, avvisato di quanto stava accadendo, il sindaco Michele Emiliano e il dirigente del comune Vito Leccese. Nel palazzo di 14 appartamenti, che sorge accanto ad una farmacia, c'erano una ventina di persone, tra cui una donna incinta. Per precauzioni ai residenti nell'edificio sono state fatte indossare maschere antigasse e tute protettive. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri, i vigili urbani e personale del 118. In serata, i condomini sono stati fatti rientrare nel palazzo.